Diversamente da come dicono gli avversari non sono candidato a vice sindaco, sono candidato a sindaco, abbiamo portato, questo è il secondo personaggio politico nazionale, ho apprezzato molto di Carlo Calenda per come dirà oggi in conferenza, perché in realtà questa era una conferenza stampa che abbiamo voluto allargare anche a qualche simpatizzante, a qualche candidato, che è disposto a sostenere la mia candidatura a sindaco anche qualora vi fosse un'alleanza con parti o coalizione sia di centrodestra che di centrosinistra. L'importante naturalmente è che le componenti politiche che andremo a coinvolgere nella nostra candidatura siano componenti assolutamente liberali, europeiste, progressiste e che abbiano ad oggetto l'interesse unico verso la città. Inutile parlare di nuovo e caricarsi di vecchio. Nel centrodestra si continua a tergiversare? Centrodestra si continua a tergiversare perché probabilmente ci sono delle forze pluridirezionali che risentono di influenze che nulla hanno a che fare con Catanzaro città, né con gli interessi della città di Catanzaro. È ovvio che ci sono delle componenti politiche che erano indirizzate verso la mia candidatura ma ci sono altre influenze politiche che non conoscono il territorio e sicuramente questo ha determinato l'implosione al momento del centrodestra e probabile trasferimento di alcune scelte a livello romano e questo è il fallimento della politica. La scelta del PD di sostenere Fiorita, cosa ne pensa e si aspetta quindi un cambiamento, proprio questo stava dicendo, per quanto riguarda il centrodestra? Ma la scelta di sostenere Fiorita mi pareva un po' nell'aria e ritengo che sia anche fisiologica poiché uno dei candidati aveva in qualche modo chiuso la strada a quella che era l'area di centrosinistra poiché magari attende la possibilità che ci sia un'emorragia sia delle liste di centrodestra o di qualche candidato di centrodestra per andare in qualche modo a rinforzarsi. L'altro candidato che era in pista, forse magari più prossimo in condizioni naturalmente in termini ideologiche e politiche all'area di centrosinistra forse non è stato valutato, strutturato da un punto di vista elettorale quindi si è puntati naturalmente su un candidato che tradizionalmente si era già candidato anche se paradossalmente alcune componenti presenti nella sua coalizione sono un po' distanti dall'area del PD tradizionale. Una città che certamente non sarà facile da amministrare perché alle vecchie problematiche, ai vecchi problemi di sempre si sommano le nuove emergenze non sarà facile per nessuno agire dal punto di vista politico, lei da nuovo sindaco se dovesse mai essere eletto si troverà di fronte a una vera emergenza? Io credo che le difficoltà siano insomma endemiche ma sarà sicuramente una città ingovernabile se continuiamo in qualche modo a caricarci con una serie di promiscuità politiche e qua il problema non è più ideologico ma è di tornaconto personale non fosse altro perché molti candidati apparentemente già schierati in realtà non lo sono e attendono di vedere dove si possono collocare perché ancora qualcuno si fa condizionare dal fatto che siamo qua per conquistare una poltrona e non per governare e amministrare una città sicuramente complicata ma che merita naturalmente quella autorevolezza che ha perso. Per fare questo abbiamo bisogno di figure tecniche, competenti. Certo, anche i voti sono fondamentali. Vedremo quali saranno le scelte di chi gestisce pacchetti di voti. Come si supera l'impasto di questo centrodestra? Facendo le scelte fisiologiche naturali. Alcune candidature sembravano essere delle candidature scontate sono diventate candidature escluse o comunque in qualche modo deviate ed è per questo che alla fine tutti gli attori hanno cercato in qualche modo di individuare dei nomi ma quando si incominciano a individuare dei nomi nel pieno rispetto assolutamente delle persone che erano state individuate ma per fare il sindaco ritengo che innanzitutto ci voglia una disponibilità diretta a fare il sindaco perché fare il sindaco a Catanzaro vuol dire dedicare 24 ore al giorno alla città. Se noi pensiamo di trovare residualmente dei nominativi o dei candidati alla carica di sindaco non abbiamo capito di com'è ancora possiamo e dobbiamo agire per poter avere una città finalmente all'altezza dei suoi piani. Non fosse altro perché oramai siamo la quarta forza politica. Veniamo dopo Reggio Calabria che ormai viene scambiata per il capologo di Regione da anni veniamo dopo Cosenza e adesso veniamo anche dopo Vibo visto che decidono pure a Catanzaro quello che dobbiamo fare.